59. L'organo malato Per aiutare a distanza altre persone, devo immaginare? Commento L'immagine è la rotaia su cui far scorrere la vibrazione benefica. Se tu immagini interiormente e in tutti i suoi particolari l'aiuto che vuoi portare, per esempio un'energia rosso fuoco che invade l'organo malato emetti una vibrazione talmente solida che può servire da ponte per avviare le altre vibrazioni. Ma attenzione, perché se non stiamo in equilibrio rischiamo di inviare a chi ha bisogno di aiuto anche i nostri problemi. Allora, grazie. Allora, grazie. Allora, grazie. Grazie a tutti